mind palace il nostro viaggio tra le stanze della mente buongiorno caro dario buongiorno alessandro come stai bene 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 dovete sapere ascoltatori che durante la sigla di mind palace io ci scateniamo sempre a canticchiarla un giorno si sovrapporrà e per qualche motivo e verrà registrato sarà bellissimo poi metteremo su un air band diventeremo famosi in tutto il mondo ma per adesso mind palace come ogni mercoledì 12 40 13 10 insieme al buon alessandro deconciini al nostro conduttore diciamo così dario chiocchetta il nostro regista l'idea e l'anima di questa trasmissione sei tu che ci conduci attraverso anche la tua bellissima pagina alessandro deconcini trattino adc in questo viaggio all'interno del nostro palazzo della mente per esplorare tutto quello che riguarda apprendimento cognizione carisma mente chi più ne ha più ne metta ma siamo già arrivati alla nonna stanza se ricordo giusto del secondo piano di questo palazzo che diciamo la nostra seconda serie per la nostra prima stagione è durata 20 episodi e qui siamo al nono episodio pensiamo diciamo a metà della seconda stagione quindi prendete appunti su tutto quello che che diciamo perché oggi si parla proprio di prendere a prendere appunti perché è un tema che mi ha tanto appassionato negli ultimi tempi naturalmente ho studiato la presi no ho studiato la presa degli appunti per molto tempo però ultimamente ho trovato dei nuovi spunti che ho cominciato ad approfondire quindi ho deciso di portare questo tema che è sempre utile soprattutto per un target non solo universitario diciamo non solo scolastico ma perché in generale nella vita può sempre essere utile la capacità di tirarsi giù le informazioni prendere appunti serve ogni qual volta voi state ascoltando qualche d'uno che non potete registrare ma o che non volete registrare per non perdere tempo anche meglio e di cui dovete come dire usare le informazioni anche su una riunione al certo una riunione un corso di formazione una lezione universitaria perché no una lezione a scuola se siete dei liceali all'ascolto chi lo sa come sempre il nostro primo ramo della mappa mentale mind mappet by adc io la mind mappo Dario la distrugge la vulgarizzo e la vulgarizzo in black and white un giorno riuscirò a fargli spendere questi soldi per una stampante di colori mappet il nostro primo ramo come sempre è un po introduttivo andiamo a definire quello che identifica l'argomento della puntata quindi prendere appunti quali sono le difficoltà principali nel prendere appunti allora possiamo dire che prendere appunti è una versione accelerata di fare uno schema di schematizzare quindi qual è la difficoltà la difficoltà fondamentale è il rapporto con chi parla sia per quanto riguarda la velocità sia perché non sempre chi parla sa parlare non sempre chi parla va in ordine non sempre chi parla è un buon oratore e quindi c'è da un lato appunto la difficoltà di stare dietro a un discorso che magari va molto più veloce di quello in cui andrebbe un libro che sta fermo lì ad aspettarti e dall'altro c'è il concetto proprio della difficoltà di capire qual è il punto mettere in ordine mettere in ordine perché a volte le persone parlano in modo disordinato a volte sono dei cani maledetti e non sanno proprio parlare in pubblico ad esempio con mind palace immagino sia difficilissimo capire esattamente ma noi siamo veramente schematici perché seguiamo proprio un filo con tutti i vari rami tutto merito della mind map sì 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 tutto merito mio possiamo dirlo chiaramente no ma quindi in generale la difficoltà è proprio lì è proprio nel riuscire a registrare le informazioni capire che cosa importante che cosa no discriminare ciò che ci serve da ciò che non ci serve e stare dietro a un oratore che molto spesso parla troppo velocemente io per esempio penso di essere un abbastanza buono comunicatore però il vizio a volte di parlare troppo velocemente quindi magari può essere difficile segnarsi quello che dico perché corro allora cerco quando parlo in pubblico faccio una lezione cerco un po di rallentare ma qualche volta mi faccio prendere dalla dall'entusiasmo magari se non hai un dario chiocchetta che ti fa stringi io magari deraglio parlo di di altro vi racconto i cazzi miei e quindi quindi magari magari perdo il filo quindi questa è la difficoltà principale a cui si in cui si trovano immersi tutti gli studenti del mondo diciamo che un po l'abbiamo già detto il evito di soffermarmi su che cosa vuol dire prendere appunto perché poi questa volta direi che lasciamo stare quando serve bene o male l'abbiamo già detto ogni qual volta tu debba ricordarti qualcosa di importante e tu sia abbastanza sicuro che non te lo ricorderai o quanto meno oserei dire che dovrebbe diventare una buona pratica prendere appunti tutte le volte che ascoltiamo qualcosa di interessante e che ci serve quante volte capita di andare a sentire una conferenza di andare a sentire un convegno eccetera stare lì ad ascoltare va benissimo ascoltare per carità però se si prendono appunti poi quello che si ascolta resta per cui se io vado a sentire un convegno con poi l'idea di portarmi a casa qualche cosa prendere appunti dovrebbe diventare un'abitudine assolutamente che tutti quanti che tutti quanti fanno mentre invece molto spesso capita di andare a sentire una conferenza ascoltare dieci minuti poi mettersi a guardare facebook e allora tanto voleva stare a casa dico io a meno che su facebook non si guardi ma in palas allora in quel caso in quel caso va benissimo però qui arriviamo un tasto dolente io in realtà so già la risposta perché frequentando e guardando la tua pagina su facebook ho già visto qualche articolo qualche commento a riguardo ma non possiamo semplicemente registrare non possiamo 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 farlo ma perché non è il caso di farlo allora intanto no partiamo dai da da assolvere chi registra perché qualche volta registrare può essere una buona idea quando beh quando non si può frequentare una certa lezione una certa conferenza però si vogliono comunque assorbire le informazioni e allora registro quando il professore è veramente un cane maledetto e allora io registro per poi riascoltarmi a casa ma poi spiegherò qual è la mia personale opinione su questo o quando in generale appunto delle difficoltà e ho bisogno di un supporto qual è il problema però del registrare il problema del registrare è duplice da un lato che quando so che sto registrando e quindi con un backup plan con un piano di riserva la mia attenzione la mia capacità di rimanere attento alla lezione crolla perché tanto so tanto stai registrando tanto lo andrò a rileggere tanto 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 ma allora la domanda che io pongo è e quindi questo è il primo problema il secondo problema è che perdo un sacco di tempo perché se io registro poi dovrò riascoltare sbobinare come fanno gli studenti medicina allora può essere utile in qualche caso se proprio il professore appunto è un cane ma a quel punto se io devo perdere due volte il tempo che senso ha se il professore è un cane e quindi io a lezione non capisco niente e ho bisogno di sbobinare ma allora sbobina e basta metti il registratore va via non perdere il mio punto è non perdete due volte il tempo se ascoltate una lezione pigliate appunti cazzo scusate la francese cioè piuttosto ma questo qui è un consiglio che arriva da me che lasciate lì il registratore vi leggete il libro ma sì in quell'ora ora e mezza di tempo e poi ascoltando quello che avete registrato del professore magari riuscite certo a incrociare un po le cose quindi l'idea è che se dovete registrare registrate e basta e poi riascoltate a casa la lezione in modo da poterla mettere in pausa tornare indietro se non si capisce e vi fate tutto il vostro lavoro ma lo fate una volta sola però che senso ha registrare e intanto essere a lezione e mezzo ascoltare mezzo no mezzo capire mezzo no perdere un like mettere un like a me alessandro concini adc e comunque perdere del tempo secondo me non ha nessun senso allora lo posso giustificare quando che ne so c'è il foglio presenze e anche il professore un cane allora mi tocca per allora di nuovo consiglio se state registrando la lezione non perdete tempo fate altro nel frattempo prendetevi il libro ignorate il professore però la mia il mio consiglio principale in realtà è non registrare proprio non registrare proprio andare a lezione e pigliare appunti come si deve a meno che non ci siano appunto degli impedimenti impossibile da superare tipo professore alcuni studenti medicina di solito si oppongono a questa cosa che dico perché mi dicono troppe informazioni durante la lezione benissimo lo accetto diciamo che la lezione è troppo densa per prendere appunti praticamente tutto da dimostrare ma diciamo che è così allora registra vai a casa nel frattempo studia e poi ritorni sulla lezione quando lei registrata tutta se il professore non permette questo allora se siete così sfigati che il professore un cane sono troppe le informazioni non vi permette di registrare e anche la lezione è obbligatoria e allora cambiate facoltà cambiate facoltà no però insomma è molto raro quindi riguardo alla registrazione la mia idea è questa non facciamo due volte lo stesso sforzo impariamo a prendere appunti come si deve e non perdiamo tempo facciamo un passettino indietro e ritorniamo al prendere appunti in sé per sé strumenti necessari strumenti necessari il registrato no allora sicuramente a seconda del tipo di metodo abbiamo bisogno di un tipo di foglio diverso vedremo che ci sono molti metodi di prendere appunti in genere direi che ci sono tre tipi di fogli possibili il foglio bianco per tutto quello che assomiglia ad una mappa mappa mentale mappa concettuale eccetera il foglio a quadretti per tutto quello che assomiglia ad uno schema lineare a una freccettine un diagramma a flusso esatto eccetera righe per tutto quello che è invece più lineare il riassunto cosiddetto e vari altri metodi che vedremo quindi questo materiale per scrivere quindi matita penna chiaramente materiale per cancellare gomma cancellino colori perché colori se si riesce non tutti riescono a fare in tempo ad usare anche i colori ma se si può bene tempera matite se uso la matita tempera penna non esiste domanda stupida è necessario essere comodo per prendere appunti è necessario essere comodo ma è necessario anche non essere svaccato però cioè dovete avere una posizione confortevole la stessa che avete quando studiate quindi dritti però confortevoli guarda dai come si metto in fuori in ogni caso messi bene però non da addormentarvi insomma tra l'altro prendere appunti in realtà vi dovrebbe tenere svegli perché fate qualche cosa di concreto dovrebbe passiamo al nostro secondo ramo che riguarda un po i principi che stanno alla base della presa degli appunti oh yes ascolto attivo qui diciamo ogni volta che c'è la parola attivo a me viene in mente il cacciatore è rimasto fulminato da questa mia metafora che usavo per la lettura come caccia andate recuperare le puntate sulla lettura che abbiamo fatto la settimana scorsa abbiamo fatto quella sulla lettura veloce abbiamo parlato invece di comprensione qualche raccomando devi essere una macchina come nella puntata scorsa allora cosa vuol dire ascolto attivo vuol dire la stessa cosa che vuol dire la lettura attiva vuol dire che se il vostro la vostra idea di ascolto di una lezione è stare fermi seduti aspettare che le informazioni del professore vi si impiantino nella testa avete sbagliato dovete andare lì e prenderle dovete il concetto fondamentale è che quando si cerca di apprendere qualche cosa bisogna in prima persona fare qualche cosa l'ascolto quindi non è un'operazione appunto passiva ma un'operazione attiva nel quale dovete ricercare all'interno del flusso delle parole che vengono dette quali sono i concetti chiave quali sono le parole che veicolano quei concetti chiave e soprattutto quali sono le informazioni che vi servono e quali invece potete dimenticare quindi dovete proprio andare a chiappare le informazioni l'hai appena detto parole chiave parole chiave non c'è dubbio andate a rivedervi tutte le puntate perché non mi metto a rifare tutta la pappardella ma se non sapete usare le parole chiave praticamente non siete in grado di studiare io la butto lì cioè le parole chiave sono simpatico tra le due o tre cose più importanti in assoluto quando si tratta di imparare per cui dovete saperle usare dovete saperle riconoscere anche nei discorsi altrui piccolo consiglio se volete allenarvi ad individuare le parole chiave provate a fare i riassunti o gli appunti del telegiornale è una cosa interessante soprattutto la parte politica è molto difficile perché molto spesso i politici ciaccolano un po e c'è una parola chiave ogni 10 minuti di discorso voi dovete imparare a riconoscerla e apprenderla per capire cosa esattamente vuole dire con quel discorso quindi questa è un'idea interessante schematizzazione durante la presa di appunti l'hai già citato ce ne sono vari di metodi allora ce ne sono vari passiamo i più comuni quelli più importanti allora il primo è il riassunto scrivo le frasi che dice il professore abbandonatelo intanto vi distruggete i polsi che non è niente male ma soprattutto è molto lento e rischiate di dovervi alienare per stare dietro il professore cioè per poter scrivere tutto dovete staccare il cervello e concentrarvi unicamente sulla dettatura e quindi lì cominciate a perdere perdere informazioni non ha senso che forse è più o meno il dramma principale di chi prende appunti di solito penso che sia l'errore più comune per stare dietro a quello che dice il professore mi spengo spengo la comprensione lascio acceso soltanto le orecchie registro le parole scrivo però quello è perdere tempo non serve a niente bene poi c'è il cosiddetto metodo cornell metodo cornell è un metodo in cui sono imbattuto proprio qualche giorno fa e che ho trovato molto interessante deciso di imparare e portare perché ha delle ottime idee il concetto è questo la pagina divisa in tre parti la parte centrale più importante ci si scrivono gli appunti come si è già abituati a scriverli quindi può essere la mentale può essere lo schema lineare può essere il flusso può essere riassunto ma non bisogna farlo comunque la parte centrale il nostro schema normale il nostro appunto normale sulla parte destra e sinistra scusate elencate delle domande che mi vengono in mente durante la lezione che sono praticamente se qualcuno mi dovesse interrogare su questa lezione o su questo conferenza che cosa mi chiederebbe e me le scrivo anticipi un po un po quello che farai poi con il ripasso esatto e questo ci aiuta poi a focalizzare l'attenzione a sfruttare quell'effetto testing di cui abbiamo parlato varie volte infine sotto alla fine della lezione che questo è un concetto molto interessante alla fine della lezione mi prendo due minuti per scrivere un piccolo riassunto di un come una sorta di sommario di cose quello che è stata la lezione questo per focalizzare il punto e andarsene via dalla dalla lezione della conferenza che ho come dire confezionato un un piccolo un piccolo riassunto una piccola mente di improvvisarlo è come se un vostro compagno fosse mancato a quella lezione vi chiede di che cosa si è parlato abbiamo parlato di questo in principale poi gli appunti esatto e quindi diviso in tre parti questo molto molto interessante e soprattutto sfrutta il concetto appunto che gli appunti non finiscono quando è finita la lezione ma continuano perché uno dovrebbe utilizzarli anche dopo e l'idea di appunto usare il sommario e le domande per focalizzare e riutilizzare quegli appunti in momento successivo è un'ottima idea poi c'è la mappa mentale chiaramente ne abbiamo parlato mille volte quindi non stiamo qui a parlarne però la mappa mentale un ottimo metodo per prendere appunti è il mio metodo preferito per certi tipi di materie quindi io lo utilizzo quelle non eccessivamente scientifica esatto quando c'è una materia troppo scientifica troppo tecnica è molto meglio magari un metodo come il metodo a flusso metodo a flusso come funziona semplicemente caselle freccette ma in verticale io l'ho chiamato schema lineare in altri modi insomma in altre trasmissioni ma il concetto è semplice pagina in verticale scrivo sempre solo parole chiave utilizzo frecce caselle grafiche colori eccetera e sfrutto quindi un po l'organizzazione di un classico schema lineare o di un riassunto ma con anche le caratteristiche che rendono una mappa mentale efficace quindi l'uso delle parole chiavi colori le grafiche in modo da rendere l'appunto più personale possibile e più personalizzabile ecco scusate la ripetizione poi c'è l'ultimo metodo che è il metodo ai l'enco puntato potremmo dire così che funziona molto bene col computer mano una mano sostanzialmente faccio un elenco con i macro argomenti e poi lo dettaglio con elenchi puntati sempre successivi insomma questi sono i vari metodi di appunti quelli che vi consiglio io sono sostanzialmente due le mappe mentali per tutto quello che è il flusso e il flusso e da combinare magari con il metodo cornell cioè magari dietro scrivere le domande e il sommario allora l'abbiamo già più o meno detto però in tante puntate però mi sento di ripeterlo velocissimamente prendere appunti e studiare cioè è già un primo passo fondamentale deve esserlo se volete che il vostro studio sia rapido e sia efficace dovete studiare a lezione poi c'è una tematica molto interessante che sarebbe quella della stenografia però visto che siamo un po' stretti con i tempi io la lancio così la lasciamo a chi ci sta ascoltando in radio come stuzzicheria andatevela a recuperare sul nostro fuorionda di facebook perché adesso dobbiamo lasciarci con il limp bizkit my generation l'hai pronunciato in malissimo limp bizkit eccolo qua insomma era un po' ancora preso dagli appunti dal metodo cornell insomma era preso così quindi chi ci ascolta in radio potete godervi la canzone per adesso però poi andate ad ascoltarci anche su facebook tranciati e chi vede la nostra telecamera vedeva che io armeggiavo con il mio cellulare perché questo perché stavo cercando proprio il sito preciso di un metodo di stenografia che vi voglio consigliare quindi volevo avere l'indirizzo il link giusto perché saranno ecco allora stenografia stenografia è l'arte dello scrivere rapidamente nasce per i giornalisti per chi deve come dire dettare avere un dettato di quello che dice riportare perfettamente quello che viene detto nasce nell'epoca in cui non esistevano i registratori cosa serve a cosa serve a generare la stenografia serve a essere molto più rapidi a scrivere e può essere combinata con le varie metodologie di appunti per ottenere dei dei buoni risultati possiamo dire così naturalmente la stenografia permette di raggiungere dei livelli di velocità dario francamente imbarazzanti ci ho visto dei video di gente che stenografa a una velocità senza senso il problema qual è il problema che ci vogliono anni per imparare i metodi più diffusi di stenografia ce ne sono vari se cercate stenografie su wikipedia ce ne sono wikipedia anzi scusate su wikipedia vi vengono fuori infiniti metodi ci sono due o tre metodi che sono i più diffusi il gregg se non sbaglio è il più diffuso e via ce ne sono vari il pitman credo sia il secondo più diffuso ma comunque insomma ce ne sono di vari tipi sono tutti più o meno simili tutti più o meno veloci ma ci vuole molto tempo per impararlo anni addirittura allora io ormai sono un po caduti no li usano li usano i giornalisti li usano insomma si può imparare però hanno sempre meno senso un metodo in cui mi sono imbattuto però che è quello che vi voglio consigliare il cosiddetto metodo ford cosa fa il metodo ford che tra l'altro è gratuito per cui si può imparare sul sito www.ford un attimo è che ve lo dico giusto corretto se no poi possiamo dirlo intanto è un po una mezza via ford shorthand quindi mano manocorta shorthand.com e è una via di mezzo perché non fa delle abbreviazioni così selvagge ma sostanzialmente abbrevia la velocità con cui si scrive il corsivo riduce il segno grafico esatto riduce il segno grafico ci permette di ottenere una velocità del 50 per cento superiore al nostro corsivo che è tanto perché se ci pensate insomma non è non è per niente poco e la cosa interessante di questo metodo è che la claim di questo sito che si può imparare in 15 minuti ora io mi sono imbattuto in questo metodo ieri letteralmente e oggi non ho avuto il tempo di imparare ma domani questi 15 minuti sicuramente me li sparo e vediamo io sospetto che ci voglia un pochino di più di 15 minuti diciamo un'oretta diciamo anche una mezza giornata diciamo che in 15 minuti capisci come funziona esatto diciamo un'oretta diciamo pure mezza giornata di esercizio diciamo anche che ci mettete una settimana in ogni caso aumentate molto velocemente la velocità di scrittura e combinandola con gli altri metodi di presa degli appunti può essere un ottimo sistema per soprattutto per le persone che fanno fatica a stare dietro al professore perché magari sento sempre quando consiglio i metodi per prendere appunti sempre gli studenti mi dicono ma io non riesco a starci dietro bla 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 beh cominciamo a provare a quindi intenzione di studiare questo metodo per poi insegnarlo ai vari miei studenti cominciamo anche magari a velocizzare la scrittura perché no sì anche perché il problema principale oltre a riuscire a star dietro al professore è che molto spesso l'attenzione cala quando è così veloce così è e il non riuscire a starci dietro ad un certo punto diventa un vabbè ma poi vogliamo dire scusate vogliamo dire che potete scrivere con un sistema che nessun altro conosce siete fichissimi la gente vi guarda e dice ma quello cosa sta facendo cioè fattore figgaggine over 9000 non possono rubarvi gli appunti che è una cosa molto comune potete poi venderli allora noi ritorniamo ufficialmente in onda con Mind Palace e rieccoci qui con Mind Palazzo allora siamo al nostro terzo ramo della puntata andate a recuperare il fuori onda per sapere qualcosa di più sulla stenografia perché Alessandro adesso ha deciso Alessandro lo stiamo registrando quindi ormai sei fregato che in 15 minuti imparerò la stenografia sì 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 questo è quello che ho capito io pensate che cosa ha capito Dario non è proprio questo che vi ho spiegato però insomma potete se vi siete interessati a imparare una stenografia in 15 minuti potete ascoltare il fuori onda molto interessante sulla pagina di Radio KM oppure Alessandro Piconcini ADC allora terzo ramo principi più pratici cioè come effettivamente riuscire a prendere punti in un modo efficace ed efficiente oh sei punti uno dietro l'altro allora partiamo dal classico punto zero esempio lo stesso preparazione del materiale allora se e questo però è meno banale di quello che sembra se non avete tutto a disposizione tutto ordinato tutto pronto perdete tempo inciampate inciampate il vostro foglio deve essere già pronto quando la lezione comincia i vostri strumenti le matite le cose già pronte già tirate fuori dall'astuccio o da qualsiasi pertugio voi le nascondiate in ogni caso dovete essere non importa ogni tanto deraglio dovete essere già pronti ok prontissimi secondo dovete scegliere il metodo allora voi dovete già sapere quali sono dovete fare delle prove dovete fare delle ricerche andate a googlarvi oppure scrivete pure a me o a Dario che ormai sa già tutto tutti i metodi che vi ho spiegato nella prima parte nella seconda parte della nostra trasmissione quella appena passata scegliete qual è il metodo che vi piace di più la nota mentale il metodo cornell il diagramma a flusso il metodo lineare li combinate insieme tirate fuori un vostro metodo peculiare non importa l'importante è che già sappiate che cosa dovete fare e come farlo anche perché se cercate di adattarvi il durante alla fine viene fuori un pacciugo che è un termine tecnico il pacciugo è un termine tecnico dell'apprendimento il pacciugo benissimo poi ascolto attivo allora quando comincia la lezione io sono pronto con gli strumenti in mano come se fosse e comincio subito ascolto attivo come si fa ad ascoltare attivamente il concetto è sempre lo stesso bisogna che abbiate una certa domanda che vi ronza nella testa quando sentite una frase del professore la domanda è sempre la stessa qual è il contenuto informativo di quello che sto ascoltando cosa si intende per contenuto informativo si intende il significato ma non il significato nel senso cosa vogliono dire le parole si suppone che le parole in italiano le conosciate si intende quali informazioni rilevanti nuove non ridondanti non stupide che non conoscevo prima il professore con questa frase sta veicolando la risposta a questa domanda potrebbe anche tranquillamente essere nessuna mettiamo che il professore ha ripetuto un pezzo di spiegazione della settimana precedente io ero a lezione la so già non ho bisogno magari si è perso a fare un esempio di vita personale quella parte lì non mi interessa quindi non la segnerò negli appunti se invece a questa domanda cioè qual è il contenuto informativo c'è una risposta e quindi ci sono delle informazioni valide e rilevanti che mi interessano che vengono fuori scatta la seconda domanda la seconda domanda è quali sono le singole parole che veicolano questo contenuto le individuo quelle sono le mie parole chiave e poi le scrivo sul foglio seguendo l'individuazione delle parole chiave è il punto successivo e poi la stesura costruisco i miei appunti in modo da rendere conto di queste parole chiave utilizzando anche la grafica i colori eccetera mi raccomando non dovete fissarvi è vero che dovete scegliere prima il vostro metodo ma se vi accorgete che in quel momento andrebbe bene un certo tipo di diagramma aggiungetelo non c'è problema per esempio mettiamo che stiate facendo una mappa mentale perché siete abituati così come faccio io ma vi accorgete che a un certo punto alla lavagna compare una slide dove c'è che ne so uno schema a tabella da ricopiare beh girate la pagina ricopiatevi il tema cioè non fissatevi con un metodo l'importante è avere un metodo di massima che sapete utilizzare che avete sempre pronti e poi come dire essere pronti magari ad adattarsi quando viene fuori qualche cosa di nuovo flessibilità 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 esatto importantissimo e tra l'altro usate uno strumento che sia confortevole per voi quindi io prima ho detto matita penna eccetera però se siete abituati potete prendere appunti con il mezzo informatico per esempio io ho fatto per una vita le mappe mentali con l'iPad c'è stato i primi anni le facevo proprio a mano a lezione e poi ho cominciato a portarmi l'iPad a lezione e non usare mai più la ma tu sei molto tech sì sì mi piace molto poi mi piaceva molto farmi figo esatto oppure volete fare gli appunti con l'elenco puntato è chiaro che avendo un elaboratore di test un Word sotto un qualsiasi altro elaboratore è molto molto più facile ultima fase della presa di appunti fondamentale ricontrollare tutto e sistema allora gli appunti non finiscono quando finisce la lezione gli appunti vanno avanti vanno ripresi o il pomeriggio stesso o la sera o il giorno dopo al massimo vanno rimessi a posto bisogna sistemare laddove ci siano delle incertezze magari ho un buco perché a un certo punto sono dovuto andare in bagno oppure mi chiamava Dario dovevo rispondere al telefono fondamentale recupero i pezzi che mi sono mancati li sistemo e li adatto devono essere pronti all'uso e in più focalizzo quelli che sono stati gli argomenti attraverso le domande il metodo Cornell funziona benissimo per questo mi riguardo le domande e cerco di capire se saprei rispondere a quelle domande e mi riguardo il sommario per farmi un'idea l'ideale sarebbe che alla fine dell'utilizzo degli appunti io dovrei essere non dico in grado di rifare uguale la stessa lezione ma pressa poco di poter rispondere ad un'interrogazione su quell'argomento magari la faresti meglio eh sì beh certo questo nel caso fosse Dario perché Dario sappiamo che è così bravo però voglio dire gli appunti non devono essere una perdita di tempo voi dovete uscire da quella classe che avete già studiato è questo il modo c'era un tizio di cui purtroppo mi sono dimenticato il nome mi dispiace ve lo cerco ve lo metto che è famoso per aver completato tipo tutto il programma di informatica in un anno di una mega università americana eccetera e lui diceva che il suo metodo fondamentale era che entrava a lezione con l'idea che non avrebbe mai più dovuto rileggere quelle cose cioè il concetto è esco dalla lezione e so quello che è stato detto punto eh un risparmio a livello di tempo e risparmio chiaramente questo è un geniaccio non dico di arrivare a questi livelli però in generale non dovete perderci tempo se siete stati attenti il vostro tempo di studio dovrebbe perlomeno dimezzarsi ecco quindi l'abbiamo già detto prima lo ripetiamo come dicono le maestre come dicono le mamme stare attenti in classe è come studiare sì cioè nel momento in cui siete effettivamente efficaci ed efficienti nell'ascolto e nella presa di appunti effettivamente state studiando allora adesso vi lancerò questa perla di saggezza che vale per gli appunti ma vale per qualsiasi mi preparo a spegnerti il microfono sì 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 allora la perla di saggezza è questa la differenza tra un adulto e un adolescente è che l'adolescente sente la mamma dargli i consigli e pensa che è cazzata si diventa adulti quando ci si rende conto che i consigli della mamma sono pressa poco tutti giusti cazzo purtroppo c'ha sempre ragione la mamma quindi quando la mamma vi dice stai attento in classe non lo dice perché è una maledetta lo dice perché c'ha ragione però anche tu ormai rientri nel rame degli adulti quindi se ci sono dei giovani all'ascolto non ti daranno ascolto ormai quando uno arriva a 30 anni è automaticamente sei un signore io non ho ancora io non ho ancora a proposito della mamma quindi torniamo al nostro quarto ramo che sono gli esempi di vita vissuta andiamo un po' a esplorare quello che effettivamente ci è capitato dai Dario dici qualcosa di te io per esempio se c'è una cosa in cui mi sono sempre reputato bravo anche se probabilmente non ero efficiente è stata la presa di appunti io obiettivamente nell'ascolto nella schematizzazione e tutto me la cavavo bene io avevo la mia regola dei tre giorni cioè io in tre giorni riuscivo avendo anche ascoltato bene la lezione a preparare un esame e non lo sapevo l'ho scoperto un po' parlando con te anche registrando i video registrando questa puntata inconsapevolmente applicavo il metodo del flusso io certo ho quasi sempre adoperato una schematizzazione lineare per punti molto libera però con il flusso cioè facevo tantissime caselle tantissime frecce funziona molto bene e soprattutto adoravo i colori io perché sono maniacale quindi ogni ambito di quello che stavo schematizzando avevo il suo colore dal rosso al giallo funziona tantissimo ed effettivamente sono sempre stato suo figlio intelligente ma non si applicano mi salvavo proprio grazie alla schematizzazione e all'ascolto in classe per quanto possa sembrare una cosa retorica possa sembrare una cosa stupida funziona cioè prendere il sei politico funziona io invece ero un cane a prendere appunti e conoscevo un solo modo la forza brutta velocissimo a scrivere e via cioè io ero quello che non capiva niente della lezione però scriveva tutto 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 e poi se la rilegeva poi ho scoperto le mappe mentali ho scoperto gli schemi sono passato al flusso e poi alla mappa mentale ha cominciato a pagare i professori esatto sì beh anche quello è un classico metodo e poi ho cominciato a metterli insieme fare un po' di questo un po' di quello e alla fine sono diventato molto molto efficiente mi ha sempre fregato il fatto che per gran parte dell'università io mi sono stufato in fretta dell'università non mi piaceva studiarla eccetera nonostante preparassi gli esami in un attimo avessi sempre una Alessandro ha due lauree cioè si è stufato in fretta però no 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 non è così no non è vero ho solo una specialistica Dario ci confonde e dicevo il concetto è che però non mi andava di andare a lezione perché ero un cazzone e per cui molti esami gli ho dati in un frequentante e l'ho pagata questa perché è vero che si studia non si va a lezione eccetera però poi si ci si mette di più a studiare gli esami in cui invece andavo a lezione ero una bomba perché schematizzavo e poi a casa non si diamo cacchio è bellissimo cioè quindi in entrambi i casi eri fallace però poi ho imparato gli ultimi gli ultimi anni ho frequentato magari la lezione in maniera veramente efficace con un metodo di presa degli appunti serio e questo mi ha permesso di abbattere i tempi di studio in maniera veramente incredibile si purtroppo il nostro sistema scolastico per quanto abbia tantissimi pregi ha anche tanti difetti è inevitabile evidenziarlo di tanto in tanto e di sicuro possiamo dire che la pil cioè il fascino e l'amore per lo studio non è una di quelle cose che viene portata a galla negli studenti eh già e soprattutto come al solito il nostro sistema fallisce sempre nello stesso posto cioè ti insegna il cosa non ti insegna mai il come come si fa a studiare come si fa a prendere appunti e lì vabbè intervengo io e cerco di metterci una pezza dove posso però insomma il concetto è questo se avete una buona tecnica di presa degli appunti il vostro studio aumenta di efficacia e si abbassano i tempi in maniera clamorosa esponenziale quindi il consiglio mio è andare a lezione e non fare come facevo io che non andavo studiavo tutto dai libri perché ah vabbè chi se ne frega invece no andate a lezione esatto invece no cazzate andate a lezione e prendete punti come si deve e poi studiate molto di meno e molto meglio così vi potete bere uno spritz in più in più solito e classico come puntata scorsa esatto l'unico scopo di Dario è studiare di meno poi andare a bere di più benissimo beh è fondamentale che dire il buon Alessandro De Conciini il buonissimo Dario Chiocchetta noi ci rivediamo sempre con Mind Palace sempre il mercoledì sempre 12.40 13.10 per parlare di tutto quello che riguarda la nostra adorabile incredibilmente a presto Mind Palace il nostro viaggio tra le stanze della mente